Il pasticcio è fatto, nonostante dal Comune si cerchi di farlo passare come un errore. La delibera di giunta con la quale il Comune di Bari chiede il fallimento del Bari Calcio per i debiti della società sportiva verso l'amministrazione è stata approvata e poi pubblicata sull'albopretorio online. Il sindaco Michele Emiliano si è affrettato a dire che si è trattato di un errore di trascrizione del segretario generale Mario D'Amelio e che la delibera sarà ritirata, ma ad alimentare i dubbi sul caso sono le parole dell'assessore al contenzioso Lino Pasculli, il quale ha detto che è necessario recuperare un debito confermato da sentenze di tribunali. È noto, infatti, che lo squilibrio del Bari verso l'amministrazione comunale è di 2 milioni di euro e che di recente il Comune aveva tentato il pignoramento di un terreno della società calcistica del valore di 600 mila euro, operazione non riuscita perché quel suolo è risultato venduto. Ad Antenna Sud, nel corso di Antenna Mattina, la versione della famiglia Matarrese è affidata a Salvatore Matarrese, uno dei nipoti del presidente del Bari Calcio, Vincenzo. Sono notizie che intristiscono perché alla base uno legge che il Bari Calcio non viene percepito come un bene comune, un bene di tutti. La famiglia Matarrese non lo percepisce come un bene proprio, l'ha sempre gestito se vuole uno spirito di servizio. e diciamo siamo da 36 anni nel calcio, forse l'unica famiglia dopo gli agnelli che hanno questa risorsa. È un onere per il gruppo, non è un asset strategico soprattutto per noi giovani, non lo viviamo come una cosa che può avere un futuro per quelli che sono i nostri interessi imprenditoriali e quello che la famiglia Matarrese si attende è che ci sia la percezione che questo è un bene di tutti e che quindi non può essere un onere solo della famiglia Matarrese. E quindi fa bene il sindaco a far 4-5 passi indietro quando si chiede il fallimento del Bari, amareggia che ci sia un contenzioso tra il Bari e il comune quando noi vediamo che in altri comuni non ci sono queste situazioni così drammatiche. Su queste cose ci si può venire incontro, ci possono essere delle sponsorizzazioni, degli aiuti che il comune deve comunque dare a una città di calcio che rappresenta anche l'immagine della città. Quindi queste sono situazioni che io da cittadino barese non metterei in prima pagina ma le terrei ben nascoste.